ma ben trovati Ciao a tutti carissimi ascoltatori di questa splendida radio da me Marina Costa ed il mio curiosando tra le note eccoci qui l'estate è passata io spero che l'abbiate trascorsa in serenità con i vostri amici con i vostri cari in bei posti no siete andati in vacanza ma anche chi non è andato in vacanza spero proprio che sia stato comunque sereno beh perché non tutti possono andare in vacanza per svariati motivi eccomi qui dicevo come ogni settimana a tenervi in compagnia per circa un'oretta il mio programma per chi non lo sapesse per chi non mi conoscesse vi dico subito che tratta ad ogni trasmissione ad ogni puntata una curiosità bene questo è il mese di settembre il mese che è preludio della stagione invernale e però prima dell'inverno appunto a settembre si apre la stagione autunnale una stagione che a tanti piace e a tanti nome per prima ad esempio mette un po' di malinconia perché io sono una persona che ama il caldo l'estate beh voi direte quest'anno però è esagerato un po' beh comunque l'importante è stare al fresco no tenersi all'ombra per chi può l'aria condizionata il ventilatore dai combattiamo così questo calda foso che per ora pare davvero essere finito il mese di settembre appunto che stiamo vivendo ha ispirato tanti artisti scrittori poeti e soprattutto pittori ricordiamo quei quei bei paesaggi nei boschi no con queste foglie che cadono dagli alberi con quei magnifici colori il giallo il rosso l'arancione insomma da un senso appunto un po' di tristezza le foglie che cadono dagli alberi però noi ci consoliamo ascoltando i cantanti che hanno dedicato e omaggiato questo mese di settembre andiamo un po' indietro negli anni esattamente pensate siamo a napoli il 25 maggio del 1940 nasceva lui peppino gagliardi peppino gagliardi nel 1970 a soli 30 anni è nel suo massimo successo infatti arriva secondo al disco per l'estate proprio con il brano che adesso andiamo subitissimamente ad ascoltare quindi peppino gagliardi con settembre fra qualche giorno finirà l'estate e sulla spiaggia niente resterà le ore passate saranno un ricordo che noi porteremo lontano io e te l'estate l'estate se ne andrà insieme al sole l'amore se ne è andato già con lei le prime gocce baciano la sappia e stanno già bagnando gli occhi miei settembre poi verrà ma senza sole e forse un altro amore nascerà settembre poi verrà ma non ti troverà e piangeranno solo gli occhi miei settembre poi verrà ma non ti troverà e piangeranno solo gli occhi miei 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 cantava appunto nel lontano 1970 a Peppino Gagliardi una canzone molto triste finisce l'estate e finisce anche l'amore e adesso andiamo a conoscere un brano dei mitici premiata Forneria Marconi ma da tutti noi conosciuti con l'acronimo PFM loro nel 1971 esattamente a ottobre incidono il loro primo singolo con l'etichetta numero 1 una curiosità sull'etichetta numero 1 l'etichetta numero 1 è una etichetta che è nata diciamo da uno scioglimento diciamo così dalla casa discografica Ricordi come al solito nell'ambito delle società delle case discografiche sono nati dei dissapori e Giulio Rapetti in arte mogoli insieme a suo padre Mariano Rapetti in arte Calibi e il produttore Colombini hanno deciso di appunto fondare di allontanarsi dalla Ricordi e fondare questa etichetta discografica numero 1 in seguito poi vi si aggiunsa anche il grande Lucio Battisti bene loro dicevo la PFM nell'ottobre del 1971 con questa etichetta fanno uscire il loro primo singolo lato A la carrozza di Hans e lato B questa canzone splendida bellissima impressioni di settembre PFM Quante gocce di rugiada intorno a me cerco il sole ma non c'è dormi ancora la campagna forse no è sveglia mi guarda non so già l'odore della terra odor di grano sale ad agio verso me e la vita nel mio petto batte piano respiro la nebbia penso a te quanto verde tutto intorno ancora più in là sembra quasi un mare l'erba è leggero il mio pensiero vola e va ho quasi paura che si perda che si perda tende il corno verso il prato e sta fermo come me faccio un passo lui mi vede è già fuggito respiro la nebbia penso a te no cosa sono adesso non lo so sono un uomo un uomo cerca di se stesso no cosa sono adesso non lo so sono sono solo solo suono del mio passo ma intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno come sempre sarà a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato davvero tanta fortuna questo grandissimo e bravissimo artista. Lo deduciamo anche dal titolo che adesso appena lo saprete perché la canzone che andiamo ad ascoltare è quella che dà il titolo all'album, salterete tutti dalla sedia. Infatti ci ascoltiamo mattina di settembre ma in inglese e titolo originale Septembermore. Nei, dai molti. Stay for just a while Grazie a tutti. 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 September morning still can make me feel that way Neil Diamond con September morning. Vi avevo detto che era un brano da sballo, devo dire che si può tranquillamente definire un brano storico nella storia appunto della musica leggera internazionale. Ma adesso torniamo in Italia e parliamo di Alberto Fortist, questo artista piemontese, infatti lui è nato il 3 giugno 1955 a Domodossola. Nel 1981 incide la canzone che adesso andiamo subito ad ascoltare. Una premessa, settembre è anche il mese della raccolta dell'uva, della vendemmia. Beh, per chi lo faceva così a livello familiare era una giornata davvero di festa. Si chiamavano a raccolta gli amici, parenti, cugini, nipoti, vicini di casa, insomma tutti in allegria a fare questa vendemmia, a cogliere questa uva per il vino nuovo, il novello. E nel brano, nel testo della canzone di Alberto Fortis si parla anche appunto di vendemmia. Eh sì, perché settembre è anche questo. Quindi ascoltiamo Alberto Fortis con Settembre. Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmi e farò. Sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Al settembre partirò e mentre il giorno sparisce, primavera verrà. Sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò. Sarò avvolto per sempre, la bacerò. E i suoi lunghi capelli, non li rivedrò più. Al settembre lontano, dalle un bacio per me. La tempesta di neve non mi sorprenderà. Al settembre che sarà? Oh, lascio tutto a te. E dille del mio amore, e dille che se può. Io potrò aspettare, e l'accompagnerò. Dentro il mio giardino, e sempre la bemo. Da vicino sempre e sempre. Ed un giorno mi disse, mentre ti aspetterò, ma il nemico va sempre. Si cattura così, apri bene la porta, fallo entrare da te. E lei l'ha fatto, oh settembre, lei l'ha fatto con me. E se nella sua testa un rossoio otterrà, taglierai i miei pensieri, come quando vorrà. Userai i suoi capelli, e io la pettinerò. E prima che sia settembre, e il mio sangue è da l'oro. E lascio tutto a te. Oh, dille del mio amore, e dille che se può. Oh, io potrò aspettare, e l'accompagnerò. Oh, dentro il mio giardino, e sempre la verò. Oh, da vicino, sempre e sempre. Oh, io potrò aspettare, e l'accompagnerò. 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 Oh, io potrò aspettare, e l'accompagnerò, e l'accompagnerò. Curiosando tra le note, con Marina Costa. Tra poco. facciamo un saltino di qualche anno restiamo però sempre in Italia ma scendiamo un po' più giù esattamente arriviamo a Roma quando l'8 marzo 1949 nasceva lui un grande artista italiano che ancora oggi pensate cavalca l'onda del successo infatti è in tournée con un altro grande artista Francesco De Gregori sto parlando di Antonello Venditti Antonello Venditti nel giugno del 1986 fa uscire il suo decimo album dal titolo Venditti e Segreti in questo album è contenuto un brano meraviglioso che parla d'amore del resto l'amore è la colonna sonora di tante tantissime canzoni del nostro Antonello quindi ascoltiamo Settembre Antonello Venditti Stai con me com'è difficile stringerti a me con tutta l'anima restiamo insieme fino a quando gli occhi tuoi ancora chiusi troveranno gli occhi miei stai con me per ogni lacrima che cade giù da questa nuvola quando la notte piano piano finirà chissà chi è il primo di noi due che parlerà settembre poi ci prenderà con i suoi venti di pioggia vincerà adesso no ferma il tuo attimo stringiti a me per questo secolo quando la musica pian piano finirà come un miracolo poi l'alba nascerà restiamo insieme insieme fino a quando gli occhi tuoi ancora chiusi troveranno gli occhi miei settembre settembre non ci troverà con i suoi venti non può non vincerà adesso sì tutto è possibile farlo così con tutta l'anima quando la musica pian piano finirà chissà chi è il primo di noi due chi parlerà pian piano finirà pian piano finirà pian piano finirà pian piano finirà che ci sono più iniziò si è il primo di noi che ci sono l'inconfondibile voce di antonello venditti con settembre e restiamo in italia e continuiamo a parlare di grandi artisti italiani infatti lui è un cantautore polistrumentista e produttore discografico è uno è considerato uno degli autori più importanti della musica leggera italiana è nato a genova il 21 settembre 1951 continua a parlare di lui sì vediamo se indovinate ha iniziato nel 1970 barra 71 con un gruppo dei delirium lui era il front man di questo complesso ma si sono sciolti quasi subito e lui ha continuato la sua splendida carriera da solista avete indovinato ma si sto parlando di ivano alberto fossati ma da tutti noi conosciuto come semplicemente ivano fossati e quindi anche lui ha dato del suo a questo bel mese ivano fossati settembre durante gli interrogatori è riuscito che le imputate in tempo di luna al primo quarto hanno rinunziato al sacramento del battesimo seducendosi l'una per l'altra a commettere tale mancamento permettendo per maggiore dannazione delle loro anime di essere ribattezzate con una nuova infusione d'acqua sopra il capo essendosi sottoposti a tal legame di obbedienza al nemico del genere umano che in tempo di luna piena a ore comode ai malfatti propizie erano portati in aria invisibilmente in maledetti congressi dove venivano compiute diversità e quantità di incantagioni sortileggi giochi bestiali ed ereticali che in luna di ultimo quarto hanno esse confessato le violenze i benefici i danni infiniti le infermità incurabili alle persone agli animali in luna nuova di settembre la distruzione dei raccolti nelle campagne mediante la sollevazione di venti e tempi impetuosi ma tu chi sei cos'hai perché non parli non argenti di stelle questo scialbo mattino non sei tu stessa a incasellarli gli astri lucenti nel grande albo del cielo o sei anche tu una figurina senza potere se non nelle notti di ferire i viandanti come spina ah signore se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti o in una strada che via mi concessi ma non vale niente che io faccia che resista o che cada tu non capisci è questo il grande lutto che oscura le mie vesti ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia tu non capisci è questo il grande male io non ti amo è questa la tragedia è questa la tragedia dove manifestamente si comprova il corpo dei diversi delitti per essere stati commessi viste le dottissime difese per parte delle dente rappresentate viste finalmente le cose che devono vedersi e considerate quelle che devono essere considerate ha avuto un parere decisivo dei molti illustri e chiari signori commissari di questa giurisdizione affinché non abbiano a gloriarsi delle loro pessime opere ad esempio di altri in via definitiva sentenziamo e condanniamo e quindi ci siamo gustati anche la voce di Ivano Fossati con Settembre e continuiamo a parlare di grandi artisti italiani è la volta ora di Luca Carboni un cantautore, musicista, compositore è nato a Bologna il 12 ottobre 1962 nell'ottobre del 2003 fa uscire una raccolta di suoi successi dal titolo Live e pensate un po' in questa raccolta vi era proprio un brano inedito appunto dal titolo Settembre Luca Carboni è sempre stato catalogato come un cantautore schivo intimista e molto riflessivo quindi questo ci invoglia ancora di più ad ascoltarlo con Settembre forse sarà quest'aria di Settembre o solo che che tutto cambia sempre l'estate va e poi ogni giorno muore e se ne va portandosi con sé la mia allegria forse sarà quest'aria di Settembre o solo che vorrei sognare sempre ma poi perché di colpo tutto non è facile mi chiedo se qualcosa resta o tutto se ne va come i gol che facevo contro una porta di legno con le ginocchia spucciate di esterno coro come morire di sete dopo una corsa d'estate dopo una corsa d'estate ma non ho più la mia amici da cross e allora scalda l'amore questo bambino che trema che vuole tutto l'amore che c'è che c'è forse sarà quest'aria di Settembre o solo che sto diventando grande ecco cos'è mi viene da ridere due lacrime ma poi perché di colpo tutto non è facile come i gol che facevo contro una porta di legno e con le braccia al fame saltare il gol è la mia mamma che chiama che è già pronta la cena ma vuoi che ancora giocare un po' e allora salva l'amore questo bambino che trema che vuole tutto l'amore che c'è e allora salva l'amore come morire di sempre dopo una corsa d'estate come aspettare Natale e poi le palle di nero come aspettare Natale come aspettare Natale Luca Carboni con Settembre tra l'altro voglio dirvi così a titolo di curiosità a proposito state ascoltando curiosando tra le note con me in voce Marina Costa sempre qui su questa splendida radio la mia, la vostra, la nostra preferita dicevo che per curiosità volevo informarvi che Luca Carboni ha debuttato nel mondo della musica leggera nel 1981 in qualità di chitarrista e compositore ma è solo nel 1983 che ha iniziato la sua carriera da solista bene adesso andiamo a parlarvi del mito con la M maiuscola della musica leggera italiana Lucio Battisti lui ci ha lasciato purtroppo nel mese di settembre pensate il 9 settembre 1998 ma nel 1966 insieme a Mogol hanno composto una splendida canzone che però è stata fatta pubblicare nel marzo 1967 beh non resta altro che ascoltarci appunto Lucio Battisti con 29 settembre seduto in quel caffè io non pensavo a te guardavo il mondo che guardavo il mondo che girava intorno a me poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse qui a lei vedevo solo lei e non pensavo a te che tutta la città correva incontro a noi il buio ci trovò vicini un ristorante poi di corsa a ballare sotto braccio a lei stretto verso casa braccio da lei quasi come se non ci fosse che lei quasi come se non ci fosse che lei come se non ci fosse che lei mi sono svegliato e e sto pensando a te ricordo solo che che ieri non eri con me il sole ha cancellato tutto di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono parlo, rido e tu tu non sai perché tamo, tamo e tu tu non sai perché parlo, rido e tu tu non sai perché parlo, tamo e tu tu non sai perché parlo, rido e tu tu non sai perché parlo, ora e tu tu non sai perché tamo, tamo e tu tu non sai perché tanto e ladro, rida e tu tu non sai perché alla endala di... Grazie a tutti. 29 settembre dalla voce dell'indimenticabile Lucio Battisti. Curiosando tra le note con Marina Costa Curiosando tra le note con Marina Costa Adesso però ce ne andiamo un po' all'estero con una canzone storica, una canzone bellissima degli anni 70. Lui si chiama Edward Cliff e la canzone Night of September. You told me lies And you spoiled my time Then left me right on September I seen the light But I always cry When summer goes I remember The night, the stars, the darkness We used to lie with our resplendent love I know, I love you still Everything here brings me memories of you I know, you know my will You held me tight And said you'd be mine But left me right on September Now tell me why You made my life die Forever I will remember The lights, the park The lights, the park I'm learning While everybody's laughing I cry I know, I love you still And all the stars of the sky cry with me I know, they know my will And all the stars of the sky cry with me I know, they know my will Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na la voce di edward cliff con la sua night of settembre ci ha portato davvero indietro nel tempo e ci ha fatto fare un tuffo nella grande musica internazionale ma io direi di continuare a parlare però della musica italiana prima abbiamo ascoltato lucio battisti con 29 settembre adesso io vi propongo un'altra data 2 settembre e chi ci canta questa canzone da questo dal titolo così particolare lui samuele versani samuele versani è un cantatore che è nato a rimini il primo ottobre 1970 nel 1991 fa uscire l'album ci hanno preso tutto e in quest'album è inserita proprio questa canzone 2 settembre samuele versani la sua donna lo piantò il 2 settembre dalla casa venne via il 3 settembre prese tutti i suoi vestiti e li portò di fuori nella strada buia e l'uomo non capì qual era il giorno non l'uomo non capì qual era il giorno ma solo all'improvviso nel vuoto delle stanze si sentì confuso e nella notte respirò il suo profumo intrappolato fra le piume del cuscino lui non poteva più dormire prese la macchina e corsi al mare per urlare urlò parole disperate contro il vento vide passare la sua vita in un momento lui non poteva più tornare in quella casa senza amore e adesso cerca la sua donna per le strade adesso cerca la sua donna per le strade la sua donna per le strade Samuele Bersani con 2 settembre, abbiamo ascoltato tante voci splendide maschili, che vi direte adesso di ascoltarci una bella, bellissima, una delle più belle voci femminili della musica italiana degli ultimi anni? Sì, Annalisa Scarrone, ma da tutti noi conosciuta semplicemente come Annalisa, è una cantautrice ligure, infatti è nata a Savona il 5 agosto 1985, nel 2013 fa uscire l'album Non so ballare e in quest'album è contemplata questa ed è ancora settembre. Ridere Ridere Bisogna sempre e solamente ridere In coda per un pezzo di felicità Come se il mondo fosse uno spettacolo Ma perché Ci fa così paura La malinquania Quel velo che si appoggia Sopra l'allegria Facendo Di un'emozione Un brivido Non c'è mai Un colore Solo Certe volte inevitabile Sto bene Del settembre Del settembre Dentro me Aspetto Che l'estate Voli via E dopo Guardo il cielo Fino a quando Fuori Tiove Io cerco un altro Che sia Come Correre Correre Bisogna sempre e solamente correre Bruciare tappe e favole in velocità Lasciandole per poi Rimpiangerle Non c'è mai Un percorso Solo Certe volte inevitabile Sto bene Del settembre Dentro me Aspetto Che l'estate Voli via E dopo Guardo il cielo Fino a quando Fuori Piove Ti cerco Tra le nuvole Ti voglio Se anche tu Sei come Me Ed è ancora Settembre Ed è ancora Settembre Certe volte Inevitabile Sto bene Sto bene Settembre Dentro me Aspetto Che l'estate Voli via E dopo La bellissima Bellissima voce Di Annalisa Con Ed è ancora Settembre Beh sì Ancora è Settembre Ci vorrà ancora Qualche giorno Prima che questo mese Ci saluti E ci lasci Per dar posto Ad ottobre Ma noi Continuiamo ad omaggiare Settembre A proposito Dovi rammento Curiosando Tra le notte Con me in voce Marina Costa Su questa vostra radio Preferita La tematica di oggi L'argomento Che sto trattando oggi È il mese di settembre Il mese che stiamo vivendo E vi sto facendo ascoltare Tutti gli omaggi Fatti dagli artisti Italiani E internazionali A questo bellissimo mese E continuiamo Con una splendida Voce femminile Sempre qui italiana Lei infatti È nata a Ro In provincia di Milano Il 23 settembre 1967 Parlo di Cristina Donà Ci fa ascoltare Settembre Guardate un po' Il sole a settembre Mi lascia vestire Ancora Leggerà Il fiume Riposa Negli argini Aperti Di questa Distesa Tu mi dicevi Che la verità E la bellezza Non fanno rumore Basta Solo Lasciarle Salire Basta Solo Farle Entrare È tempo Di Imparare A guardare È tempo Di Ripulire Il pensiero È tempo Di Dominare Il fuoco È tempo Di Ascoltare Davvero L'amore L'amore a settembre Mi ha fatto sentire Ancora Leggerà 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 Il giorno Sprofonda Nei solchi Bruciati Di questa Distesa Tu lo sapevi Tu lo sapevi Il fuoco È tempo È tempo Ascoltare Davvero È tempo Di Imparare A cadere È tempo Di Rinunciare Al veleno È tempo Di Dominare Il fuoco È tempo Di Ascoltare Davvero L'amore L'amore a settembre Mi ha fatto sentire Ancora Leggerà La voce Di Cristina Donà Ci ha portato Quasi Al termine Di questa Mia conduzione Di Curiosando Tra le notte Questo mio Rientro Dopo la pausa Estiva Ho detto Quasi Al termine Perché ho Giusto Il tempo Di Annunciarvi L'ultimo Brano Un brano A cui Io tengo Molto Che ho Voluto Tenere Proprio Per il Gran Finale Per il Botto Finale E anche Perché Il Proverbio Dulcis In Del panorama Musicale Italiano E Internazionale Adesso Voglio Parlarvi Di Una Band Statunitense Hanno Un nome Molto Originale Hanno Il nome Degli Elementi Naturali Terra Vento E Fuoco Sto Parlando Degli Heart Wind And Fire Loro Nel 1978 Esattamente Il 18 Novembre 1978 Fanno Uscire Una Canzone Che Ci ha Fatto Ballare Allora Come Ci fa Ballare Ancora Oggi Nel Frattempo Io Approfitto Per Salutarvi Approfitto Di Questi Ultimi Istanti Di Conduzione Marina Costa Ovvero Io Vi do Appuntamento Alla Prossima Settimana Mi Raccomando Sempre Qui Su Questa Magica Radio E Vi Lascio Vi Esorto A Ballare Con Gli Earth Wind And Fire E Settembre Ciao Settembre Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.